Alessandro Siani, ritorno al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. È sempre più facile parlare con i giovani che con gli adulti? No, è sempre difficile ascoltare. Il problema non è parlare, è ascoltare. Siamo in un periodo particolare, è successo di tutto, niente di meno tra la guerra e il Covid. Non scendono gli extraterrestri, perché la situazione per come sta, pigliano la navicella, gli sgommano e se ne vanno andata a voto. Però diciamo, il cinema riesce sempre a tenerti con la testa fra le nuvole, a sognare, a pensare cose belle, quindi evviva il cinema. Ecco, dopo la pandemia, in che condizioni versa il cinema italiano? Beh, le sale sono chiuse, la gente si... no, le sale sono chiuse, sono aperte, molte hanno chiuso perché c'è stata veramente una grande crisi. Molte persone si sono riversate, diciamo, sulle poltrone, sui divani per vedere le serie TV, ma non è solamente questo, è anche un po' la paura ancora di stare nei posti chiusi. Però pian piano vedo che sta risalendo anche il cinema, la sala, c'è stato un film che si chiama La Stranezza, che comunque ha iniziato un po' a smuovere gli animi e le persone. Ma il cinema non c'è niente più bello del cinema, il cinema, diciamo, non è che ti risolve una malattia, ma almeno per due ore non da far pensare. In questo periodo far ridere è importantissimo. Sì, cagliare basta a bolletta la luce. Solo quella? Eh beh, poi mettici vicino un gas, cose... Ci vuole qualche aiuto in più dal governo per il cinema? Assolutamente, ma per la cultura in generale, perché quando le situazioni sono difficili l'unico punto di riferimento rimane sempre alla cultura. Ecco, per il futuro cosa bolle in pentola per Alessandro Siano? Innanzitutto se ti è nato in domanda, fammelo sapere che avverta che a Natale non arriva a casa, perché no, no niente, il 14 febbraio esce il mio nuovo film, si chiama Tramite Amicizia e a Natale stiamo a teatro. Dove è stato girato? Eh, abbiamo girato a Ferrara, abbiamo girato a Ferrara e siamo stati accolti tipo benvenuti al nord. A proposito di benvenuti a noi, benvenuti al sud, ecco, in questo periodo il maltempo ha caratterizzato particolarmente anche Castellabate ed anche poi Ischia ultimamente. È stato un disastro, mi ricordo un articolo, un titolo del mattino che era Fate presto, ecco questo è quello che dico, Fate presto. Allora faccio un grande saluto a tutti coloro che sono sicuramente in sala a seguire questa festa, questo festival del cinema di Salerno. E viva il cinema e viva Salerno, grazie mille di cuore per questo premio. Addirittura, guardate qua, mi hanno regalato pure una pianta. Non sa se era un premio, era un'inaugurazione. Io vi abbraccio veramente di cuore. Ufrate cose cose, ya me ya, è matatrattata. Ciao.